Sì, e mettono dove non li hai messo, facciamo la porta interna. Sì, e mettono dove non li hai messo, facciamo la porta interna, sempre col colore uno sul tavolo. Sì, poi mostrami come è uscito. C'è uno dei quadratini piccoli piccoli. Sì, non è il problema quello. Ok, ti faccio vedere come lascia. Aspetta un attimo. Perché è estremamente eliminato questa struttura? No, due secondi. Due secondi. Due secondi. C'è un blu. Tutti sopra. No, ma la cosa è no? Perché sono trasparenti là dentro? Due su un attimo. Devo vedere un'altra cosa. Due'... Due secondi. Due secondi. E' vero. Hai controllato che su base non hai messo colore uno. base di cosa aspetta di quelli dei blocchi interni quelli così a quell'interno i best c'è uno? Metti di default mamma... default e di te il che metto? uno ok default uno default uno default uno default uno default